De Cuba o De Santo Domingo, per me non c'è dubbio questa qua è un'altra bomba. Non è manco tutto sto granché, ve? Non fatti. Adesso ne facciamo una con i testimoni. Eccoli! Ah, lo so io o lo sposo, eh? Eccolo! Sei la migliore di tutta l'Europa, eh? È l'unica possibilità che abbiamo! Non è l'unica possibilità e tu lo sai benissimo. C'è una veste. Riccardo, lei è la mia donna. Tu mi hai lasciato per andare a vivere con questa. Sono trasgressivi. Avrei messo su il pornazzo, eh? E allora non guarda qui, dai. Che volendo, che ciollo, che ha pallonetto, e leva ste mani? Ci manca una cosa, una cosa piccola, che poi piano piano cresce e diventa grande. Est, vogliamo fare il trapianto del pene. Un bambino! Ci manca un bambino! Ma se mi fai a cussì che hai mano? Sto vicino che cresce a cussì o che cresce a cussì? Che è cuccato? Non ho letto vicino. Sono disperati. Cosa posso fare per lei? Vorrei un muco. Di cosa ci ho qua? Lavoro qui. Non è un lavoro continuativo, signora. Ma andate a volare via! Adesso glielo dareste il mutuo, eh? Ci volete. Sono all'ultima spiaggia. Andate via, vogliamo rinno? Signora! C'è un mio amico sul cornicione. Come c'è finito? È a fini dei ragnatelli. Eroi della sfiga. Secondo me ha dei parenti in Alto Adige. Bologna. C'è una zia a Caserta Nord. Ma chi sta scemo? No, è milanese. Che non hanno più niente. C'è una zia a Valazio! Se buttiamo! Ma proprio niente da perdere. All'ultima spiaggia. Ma chi mi ha scelto un cornicione più basso? Sì, ma mi ammazza a far più piano. Al cinema!